Signore, signore, silenzio. Signore e signori, è stata indetta una riunione di condominio straordinaria. A quest'ora? Ma sono solo le 6 del mattino. Ah, ma siete qui per la riunione. Ah, vabbè, ma c'è la porta aperta, altrimenti suonate che vi apro. Eccomi qua, scusate il ritardo. Sulle scale c'è un gran via vai. Che cosa mi sono persa? Anzi, andiamo avanti fino alle 10. Riunione di condominio. La Santi come suona. This is RFT.